Ciao e bentornati, sono Simone Tropea di Bing Games. Questa volta apriamo una nuova serie che chiamiamo Let's Play Encode. In questa serie esaminiamo alcuni giochi e proviamo a ricreare le loro meccaniche con il nostro software, in questo caso Construct, il 2 oppure il 3, dipende cosa avete. Oggi esaminiamo questo nuovo gioco che è in Early Access, si chiama Spellsword Cards Dungeon Top, è stato sviluppato da un ragazzo che ho conosciuto a Sydney, uno di questi incontri di sviluppatori di videogiochi, tra l'altro vi raccomando se esiste qualcosa nella vostra zona andate in questi meeting perché è molto utile scambiarsi i feedback, e lui mi ha fatto vedere il suo gioco e gli facevo vedere il mio, quindi sono qui e vi faccio vedere questo gioco perché con la scusa vi insegnerò delle nuove cose. Il gioco è stato sviluppato da Brainwetch, che è il game designer, Andrew Chia, che è lo sviluppatore, che è la persona con cui ho parlato, e Magishu, che è il producer. Ok, noi in questo gioco lo giochiamo un po' così per farvi vedere le meccaniche insieme, ma estrapoliamo alcuni punti che vi andremo a riutilizzare, e i principali sono il multiplayer locale su un computer, nella fattispecie questo è un gioco a turni senza limiti di tempo, quindi facciamo tipo un gioco da tavola, o un gioco di carte, e utilizzeremo con questa scusa, siccome nel gioco ci sono appunto le carte, l'array, così vediamo come utilizzarle per archiviare l'ordine delle carte, come mescolarle e così via. Allo stesso tempo in questo gioco abbiamo anche una mappa tipo scacchiera, dove i personaggi si muovono e combattero, e anche qui utilizzeremo l'array, e vediamo come tenere traccia dei personaggi su questo piano, e poi magari riusciamo anche a collegarlo con il tilemap, dipende chiaramente dalla situazione. Adesso faccio un video così abbastanza generico, e non vado troppo nei dettagli, nei prossimi video poi andremo più nei dettagli tecnici, su come ricreare le meccaniche. Ok, a questo gioco le caratteristiche sono che è un roguelike, con meccaniche come dicevo con le carte, tipo deck building, e le battaglie su mappa tipo scacchiera. Ci sono diversi eroi tra cui scegliere, ognuno con i mazzi personalizzati, lo vedremo tra un attimo. Il gioco al momento è in early access, per me che sono una strea sono 22 dollari 95, in un euro allo cambio attuale penso saranno tipo 13 euro, ora non so. Presto dovrebbe essere rilasciata la versione finale del gioco, e gli sviluppatori sono proprio veramente attivi, fanno sempre ogni giorno, sono sempre a lavorare e sistemare i bug, se ce ne sono, oppure accogliere suggerimenti, migliorare sempre il gioco. Quindi è un gioco che lo raccomando, non solo perché ci serve adesso per imparare le meccaniche, ma io ci ho giocato queste durante le vacanze di Natale, e sinceramente se sono stato un mese a giocarci, mi sono veramente divertito, e era tanto che non giocavo a un gioco, e finalmente mi sono un po' appassionato. Adesso l'ho messo un po' da parte, perché chiaramente devo anche lavorare, se gioco tutto il tempo non facciamo niente. Ok, manda le ciance, cominciamo a vedere come funziona questo gioco. Allora aggiungo due cose, la prima è che nel frattempo che io ho fatto questa prima registrazione che avete appena sentito, ho perso la parte seguente, che era circa due ore di video, quindi dovrò rifarla. E cosa è successo? Che loro sono passati avanti, chiaramente hanno fatto delle versioni nuove, quindi staremo a vedere insieme che cosa è cambiato, perché tante cose purtroppo non ci ho più giocato, e non so. Una seconda cosa è che non sentirete audio e effetti sonori, perché io li ho disabilitati nelle opzioni apposta, per farvi capire meglio cosa dico io, non so se il suono può interferire sulla mia spiegazione, e comunque sia, è una cosa secondaria rispetto alle meccaniche che andiamo a vedere insieme in questo genere di giochi, non è la cosa principale. I suoni sono ok, sono interessanti, la musica pure, l'atmosfera, però diciamo non è la colonna portante del gioco, quindi facciamo senza. Quando voi andrete in caso a provare il gioco, per se lo comprerete, ovviamente lo potrete fare con il suono. Ok andiamo avanti, qui abbiamo il tutorial che lo salto, perché intanto lo vediamo insieme il gioco, continuiamo, la libreria, le carte che avete, le regole e così via, salto tutto, perché tanto ve lo spiego al volo, draft mode, è una modalità nuova, che non so, non l'ho provata, visto che io non gioco il gioco da un bel po', e New Hero per creare un nuovo personaggio. Andiamo con il New Hero, qui abbiamo il guerriero, come personaggio classico da poter scegliere, il mago, e questo che è stato aggiunto da poco, il rogue, che chiaramente non l'ho mai provato. Quindi oltre a queste tre classi, poi possiamo scegliere anche l'alleanza. L'alleanza fa cambiare il tipo di carte che abbiamo, queste sono le carte che abbiamo da poter utilizzare durante il gioco. Adesso abbiamo una terza alleanza nuova, prima ne ho viste solo due, finora, quindi la terza. Io parto con la combinazione basilare, perché è anche quella che conosco un po' meglio, anche se l'ho provato le altre due, diciamo, le prime due delle classi dell'alleanza, ma per capire le meccaniche è più semplice. Quindi ci focalizziamo su questo. Questo è il set di base di carte con cui si parte, volendo si può cambiare il set. Qui otteniamo delle carte diverse, sempre da utilizzare con questo guerriero e questa alleanza. Questa è una, come vedete qui, First Legion, Basic, e Brigadier's. Se io vado a cambiare l'alleanza, mi cambio nelle carte. Queste sono più votate tipo al sacrificio, queste cose così. Sacrifica una carta per guadagnare un potere e così via. Mentre quell'altro, diciamo questa, questa non so, ecco la nuova, la Guardian Sovel, sono elementi abbastanza basici come carte. Ok, partiamo con questo, poi chiaramente lo potete esplorare meglio voi. Questo è Dungeon Ferocity, penso alla difficoltà. Allora, questa è una cosa nuova per me, ma io lascerei uno poi, vediamo. E niente, partiamo. Poi tanto, come detto prima, qui cerchiamo di vedere le meccaniche principali, per cercare di fare un gioco simile, comunque ricreare delle, con Construct, del sistema di carte, e così via. Ok, quindi cosa abbiamo? Questo è il Dungeon, qui abbiamo tre porte dove potete andare, e qui c'è il primo nemico. Questo è il nostro giocatore, i soldi che abbiamo, 15 monete, 3 che sono fredstone, che sono pietre speciali, che vedremo più avanti a cosa servono. Qui le pozioni di guarigione, i tesori che abbiamo, lo guardiamo insieme a questa cosa perché è un po' cambiata rispetto a questo, quando ce l'ho giocato io, quindi ci saranno degli attimi che dovrò anche studiarci pure io. Ecco, questa è l'esperienza, 0 su 30, necessari per passare al prossimo livello, siamo al primo livello. questo possiamo vedere le caratteristiche del personaggio, primo livello, pesca 5 carte, 3 mana, forza 2, che quanto danno fa, questi punti ferita, 12 su 12, e quando vai al terzo livello aumenta i punti ferita, se mi sembrerebbe di capire. I talenti li sblocchiamo più avanti, l'arma che abbiamo adesso, quest'arma fa due danni, infatti, adesso se muovo il mouse non lo potete vedere, però se vedete qui, andando sulla destra, in questo punto c'è scritto power 2, che poi è quello che ci dà la nostra attuale potenza. Artifatti? Non lo so, non ce l'ho. Torniamo indietro, da qua vediamo le carte che abbiamo, vabbè, questo siamo noi, che scendiamo automaticamente in campo, la vedremo tra un attimo, poi abbiamo due di queste carte qua, due di queste, due, una, una, una e una. Le esaminiamo mentre si gioca. Qui abbiamo le opzioni di andare qua, che c'è scritto, non so se le vedete, sildo, porta chiusa, sigillata, questa pure, e questa pure, quindi, se io voglio andare, dice questa porta è chiusa, non ti ci va andare, praticamente bisogna esplorare, alcune parti del dungeon, in modo da poterla sbloccare. Quindi l'unica scelta che abbiamo è andare, affrontare questo goblin. Ci si sposta, cliccando sul goblin, e si va direttamente a questo punto, oppure, una per una, ci si, ci si clicca, e la telecamera si sposta insieme al personaggio. Ok, clicchiamo e vediamo il primo mostro, che si dice, che è il primo livello, e ci dà 15 punti esperienza. Abbiamo la scelta di combattere, oppure c'è la scelta di scappare, e abbiamo il 100% possibilità di fuggire. Ogni volta che fuggiamo, però, da un mostro, questa percentuale si riduce, nel senso che, se adesso fugo da questo mostro, fugo automaticamente, perché ho il 100%, con il secondo mostro, con il secondo mostro, avrò magari il 75%, con il terzo mostro, il 50% e così via. Quindi, il gioco ti spingi, a un certo punto, a dover combattere. Però, diciamo, se uno è messo male, e vuol tentare la fortuna, può cercare di fuggire, e sperando di trovare, magari, magari sei a un punto ferita, sfuggire al mostro, trovi un tesoro nella prossima stanza, che ti dà una pozione di guarigione, e così via. Questo, vediamo, il masso del nemico, le carte che ha. I nemici, i nemici hanno sempre un pattern, una sequenza, scusate se parlo ogni tanto in inglese, mescolo un po'. Non stupitevi, che ogni tanto metto anche qualche parola di giapponese, quando parlo, quindi, è un po' così. Questa è la sequenza delle carte del nemico. Questo è il nemico stesso, che è praticamente, il boss di questo, primo incontro, di questa battaglia da uccidere. Se uccidiamo lui, si vince la battaglia. Ha Power 2, che fa 2 di danno, praticamente 16 punti ferita. Poi, se li leggiamo qui sotto, come sempre, come dicevo prima, con il mouse, non posso andarci, ma lo vedete sotto la foto, di questo riquadro, in questo punto qui, dice, da tutte le unità adiacenti, le amiche, i Minions, sono presenti gli scagnozzi, gli da più uno di forza, ovviamente, tutti i suoi alleati, che sono adiacenti a lui, aumenta la forza di uno. e poi sotto vediamo il keyword power, the amount of damage that during an attack, praticamente è la scalia che dice, che cos'è la potenza. questo è proprio giusto per, ogni tanto ci sono dei termini nuovi, che voi non sapete, e sono spiegati sotto, che cosa fanno. Il gioco molto fatto bene, da dei suggerimenti, sulle meccaniche, mentre giocate, quindi non dovete studiare tutto in precedenza. Molto fatto bene. Questo nemico, potenza 1, un punto ferita, blocca 1, come vedete sotto, blocca 1, c'è scritto che cosa fa il blocco, prende, nega tutto il danno subito, nel primo attacco, poi dopo che è stato, bloccato questo attacco, questo effetto, di bloccaggio se ne va. Quindi per il primo attacco, viene bloccato automaticamente, tutto il danno, che sia un punto, sia 100.000, non importa. Questo è praticamente uguale, goblin rebel, goblin rebel, mentre la sua sequenza, è avere questi due goblin, e questo, quest'arma qui, che è un incantesimo, vedete c'è scritto, sotto il nome, Dagger Throtis, c'è scritto spell, incantesimo, fa un danno, a due bersagli diversi, nemici, entro raggio di due, due sono due caselle, che vedremo subito. Ok, questo qui, questo pulsante serve per, far, impilare le carte, che sono dello stesso tipo, in modo che uno, lo sta a leggersi tutte, perché se sono uguali, e la meccanica, che anche questa, potrebbe essere utilizzata, in qualche altro gioco. Ok, partiamo, con la prima battaglia, e ci scontriamo. Ok, adesso, queste sono le nostre carte, noi prendiamo, dal nostro mazzo, cinque carte, che il mazzo, chiaramente, è mescolato, ogni, ogni battaglia, e di queste cinque, dobbiamo scegliere, quale, tenere, con cui partiamo, con la prima mano, oppure, le scartiamo, e peschiamo, un'altra carta, che chiaramente, non sappiamo, cosa, cosa ci viene. Quindi, questo personaggio, qui, cosa fa? Ha, questo nostro alleato, due di attacco, power 2, fa due di danno, e tre punti ferita, come vedete, ha una stellina, vuol dire, che al primo livello, si può, ehm, aumentare la potenza, fino al terzo, chiaramente, aumenterà qualche caratteristica, uno, questo qua, uno blu, è, un mana, per metterlo in gioco, bisogna spendere un mana, quindi, vediamo quanti mana, abbiamo durante, il turno, e ci facciamo, due conti, quindi, qualche carta, come vedete, come queste qua, tutti questi personaggi, costano, un mana, mentre questa qui, la possiamo fare gratis, non abbiamo bisogno, di sprecare il mana, cosa fa questo personaggio, è un guardiano, praticamente, quando qualcuno, nemico, si muove, in una casella, che lui minaccia, e la minaccia, lui, è una casella, minaccia, sopra, sotto, sinistra e destra, non in diagonale, quando qualcuno, diciamo che qua, si muove qui, automaticamente, lui fa un attacco, e gli infligge, due di danno, quindi, è importante, questo qui, perché, ci lavoriamo, con una strategia, questo qui, invece, è un incantesimo, che, mentre i personaggi, rimangono in gioco, finché non vengono uccisi, questo incantesimo, si usurisce, appena, appena lanciato, e fa l'effetto, quindi, fa due danni, un amico, a nostra scelta, non c'è gittata, quindi, ottimo, magari, per un colpo finale, o, o, per levarsi, di torno, un nemico debole, questo personaggio, qui, invece, che il nostro, alleato, è, Helm Guide, ad attacco, 2, c'è un punto ferita, solo, e a, Haste, Haste è buono, perché, ogni volta, che noi mettiamo, in campo, un personaggio, normalmente, questo personaggio, non può far niente, solo avete giocato, a Magic, con tipo, la debolezza di evocazioni, in qualche parole, lo mettete in campo, ma, non fa nient'altro, finché non è il vostro turno, ancora, mentre, se ha questa abilità, Haste, lui può attivarsi, può muovere, e attaccare, da subito, questo altro personaggio, sempre, 2 di danno, un punto ferita, aggiunge, un punto di forza, a, se stesso, quando entra in campo, e a tutte le unità, alleate, adiacenti, incluso, noi stessi, che siamo, e, il personaggio, che può essere in campo, quindi, quelle, come si diceva, adiacenti, come, nel caso di, Pikaman, chiunque si sia, sopra, sotto, a sinistra, o a destra, praticamente, aumenterà il suo punto, di forza di uno, quindi, diciamo, metto in campo, questo personaggio, questo è già qua, la sua, il suo attacco, diventa 3, ok, diciamo che, voglio tenermi, tutti e 3, tutti e 5, scusate, e clicco, keep all, se invece, volessi cambiare, diciamo, questo qui, scelgo questo, redraw, e mi da un personaggio nuovo, allora, magari ve lo faccio vedere, scarto questo, giusto per farvelo vedere, uno, e adesso, vedrete, che questo qui, mi va via, poi, può darsi che, lo ripeschi, capito, se c'è un'altra carta uguale, però, vediamo cosa teniamo, e come vedete, qui c'è un personaggio diverso, perché, ha rimpiazzato, quello che ho scartato, attacco 2, 3 punti ferita, ogni turno, mette la potenza di 1, che non è male, costa sempre un punto mana, anche questo qua, ok, qui abbiamo mana, abbiamo 3 punti mana, quindi, avendo 5 carte, di cui, 4 costano umana, noi possiamo usare, al massimo, 3 carte, più la magia, che è gratis, quindi, già siamo limitati, la carta, che non viene usata, in questo turno, verrà scartata, quando si scartano, tutte le carte, alla fine, si rimescolano, e si rifà un nuovo deck, nuovo mazzo, come vedete qui, queste aree verdi, sono le aree, dove il mio personaggio, si può muovere, allo stesso tempo, se io voglio mettere, un campo, un personaggio, lo posso mettere, solo, nelle aree verdi, cioè, adiacenti, al mio personaggio, quindi, diciamo che, voglio mettere, guardiamo qua, in caso, lui, il nemico, si muova, troppo vicino a me, e mi costa, un mana, che se ne è andato, adesso, cosa faccio, metto, un altro personaggio, un altro guardiano, qui, però, vedete che, adesso, le aree verdi, sono diverse, praticamente, ho, considerate che, le diagonali, in questo gioco, tranne eccezioni, non si considerano, quindi, sempre qualcosa, nei quattro punti, intorno al personaggio, destra, sinistra, sopra e sotto, ognuno, di questi, personaggi, alleati, o il mio eroe, ha sempre, queste aree, verdi intorno, che sono le aree, dove, si possono muovere, e allo stesso tempo, si possono evocare, altre carte nostre, quindi, con questa cosa, bisogna, tenere presente, che sono meccaniche, con cui si può, anche bloccare, il nemico, perché il nemico, a sua volta, vedete, ha, aere dove, può muoversi, e evocare nemici, quindi, se io vado a bloccare, questo punto qui, lui non potrà, chiaramente, evocare nessuno, questa casella, ma allo stesso tempo, il nemico, poi si muove e attacca, quindi bisogna stare attenti, avete visto, ho messo questo personaggio, in campo, e ci ha, sta, ronfando, come dicevo, c'è quella debolezza, di evocazione, e la mia scelta, è di mettere, un altro guardiano qui, in modo che, quando lui scende, se scende, e attacca, si, automaticamente, quando scende, subisce due danni, perché, loro hanno la proprietà di guardiano, e stessa cosa, se lui non scende, e evoca uno di questi nemici, automaticamente, appena sono messi in campo, subiscono, due danni, quindi, muoiono automaticamente, quindi, è tattico, mi controllo questa zona qui, e non solo questa, evito che a lui, metta un mostro qui, e uno accanto, a destra e a sinistra, come conseguenza, perché lui chiaramente, può mettere in campo due, e infine, niente, metto questo, ultimo personaggio, e mettendola, prende, aumenterò la sua potenza, di tre, questo diventa pure, tre, la potenza, perché aumenta di uno, e il mio personaggio pure, quindi, insomma, diventano forti, ok, questa sua abilità, di potenziare quelli intorno, vale solo, quando lei entra in campo, quindi, è una cosa che, è come una variabile, che abbiamo che, ad S1, quando scende in campo, lei diventa zero, questa variabile, e quindi, non si attiva più, quindi, quando nel mio prossimo turno, in teoria, metto questa carta giù qua, non aumenterà la forza, passiamo il turno, e vediamo cosa fa il nemico, come dicevo, in automatico, ha subito il danno, dal mio guardiano, infatti, aveva 15 di vita, subito, due, però, ha attaccato il guardiano stesso, che da tre di vita, è andata a uno, quindi, sono quasi morto, nel frattempo, il mio mana, si è, adesso non mi viene la parola in italiano, si è riempito di nuovo, sono tornato pieno, e ho pescato le carte, perché le carte si pescano sempre, in modo che a fine, a inizio turno, abbiamo sempre la mano, con cinque carte, come prima, abbiamo tre punti di mana, e quattro, carte che ci costano un mana, quindi non possiamo usare tutte queste carte, che opzioni abbiamo, oltre a giocare le carte, che abbiamo visto, ah, io ho passato il turno, senza usare la magia, qui per fare il danno, mi sono distratto, nella spiegazione, avrei dovuto attaccare, il nemico e le buggy 2, con questo, vabbè, errore, che cercheremo, di non fare più, quindi, oltre che, mettere in campo le carte, che adesso vi spiego, tra un attimo, cosa sono le nuove carte, posso fare, con questo personaggio, se vedete, sotto, la scritta rossa, HP, 1 di 3, abbiamo azioni, 1 di 1, e mosse 1 di 1, le azioni praticamente sono, o abilità speciali, o l'attacco, e il movimento è 1, quante cose alle ci si può spostare, si può, sia attaccare prima, che muoversi dopo, che viceversa, allora, diciamo che, mi interessa, attaccare questo qua, il nemico, e gli levo 3, perché tanto, il nostro obiettivo principale, è far fuori lui, poi muovo lui di lato, mando avanti lei, faccio un altro attacco, gli levo altri 3, mando avanti lui, faccio un altro attacco, e levo 2, quindi lo lasciamo a 5 il nemico, se avessi invece, con questo qui, invece di attaccare il nemico, o il boss, diciamo, avessi mosso prima qua, e avrei attaccato lui, vedete che c'è questo scudo qui, lo scudo, l'avrebbe parato, come dicevo prima, quando si esaminava le carte, e niente, prendere l'attacco, sarebbe stato vanificato, quindi per questo, non ho deciso di, far fuori il minion, e mi voglio concentrare, nell'attaccare il nemico, adesso da pensare, che il nemico, dopo agirà, chiaramente, lo potrà, far fuori tranquillamente, il boss può far fuori questa qui, tranquillamente, che c'è un punto vita, lui potrà muovere qui, attaccare lui, fagli un danno, qui, chiaramente si, si va attirando, vina a cosa fa, però la cosa più logica, lui attacca sotto, e fa fuori questo, quindi rimango abbastanza scoperto, in più, il nemico qui ha, questa magia, che infligge, un danno, a due bersagli diversi, che potrebbe utilizzare, prima di attaccare, in corpo a corpo, quindi potrebbe dare, due danni, uno a questo, uno a questo, farsi strada libera, potrebbe muovere il personaggio sotto, ma poi non attacca, con il suo eroe, diciamo, e con questo qui è uguale, quindi in teoria, lui potrebbe far fuori questi due, in corpo a corpo, e poi dopo tirare la magia, sul mio personaggio, ok, vediamo le nostre carte, abbiamo qui questo, helm slingman, praticamente, è un arciere, però tira con la fionda, e se lo metto un campo qui, potrebbe in teoria, sopravvivere, se il nemico non attacca, con questa magia, questi qua, e poi fa scendere, il minion sotto, per attaccarlo, o viceversa, o il fa fuori, magari questo, con la magia, quindi sono abbastanza fragili, con uno, e niente, quindi potrei metterli in campo, però sono abbastanza rischiosi, loro hanno come, attacco range 2, vedete, scritto sotto, sotto l'immagine, praticamente, vuol dire che, lui può attaccare, a due caselle di distanza, quindi, da qui io posso attaccare, questo qua, come sempre, lo metto in campo, non posso attaccare subito, questi sono personaggi, invece, che si diceva prima, si muovono, e attaccano, lo stesso turno, che mi vengono messi in campo, quindi, in teoria, se io, ne metto in campo, uno qua, perché qui lo posso mettere, vedete, verde, uno qua, potrei farlo muovere, attaccare, e quindi, non infliggo, nessun danno al nemico, però gli lavo lo scudo, e poi potrei, essendo questo qua, qui, al di sopra, in questa casella, evocare, un secondo, di questi eroi qua, farlo muovere, e attaccare, e far fuori questo nemico, e quindi, diciamo, mi, 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 mi gestisco un po' meglio, la situazione, sono sempre, abbastanza deboli, i miei eroi, però, tutti con uno di forza, però, diciamo, la posso gestire, più ho questa carta, che, è la stessa, effetto, che hanno questi qui, praticamente, il primo attacco, per quel prossimo turno, viene, il primo attacco, che l'unità, mia alleata, oppure, il mio eroe, se lo do sul mio eroe, subisce, viene negato, e quindi, praticamente, mi potrò, in teoria, salvare due punti, di danno, sul mio personaggio, ora, da considerare che, i punti ferita, che il mio personaggio ha, che adesso sono 12 su 12, a fine di questa battaglia, rimangono, così come sono, quindi, se a fine battaglia, ho 5 punti ferita, nella prossima battaglia, io parto con 5 punti ferita, quindi, mentre, le carte, che abbiamo, tranne che, eccezioni, che vedremo in futuro, ritornano sempre, quindi, non ho problemi, a, perdere, perché comunque, anche durante il gioco, mi ritornano nel mazzo, qui li posso, ripescare ancora, i punti ferita, del mio personaggio, non ritornano automaticamente, quindi, ci devo stare attento, vediamo un tanto, cosa facciamo, come questa strategia, che dicevo prima, lo metto in campo, posso muovere, attacco, gli faccio il zero danno, ma gli ho levato lo scudo, metto in campo lui, muovo, attacco, e l'ho fatto fuori, adesso il nemico può, con il pugnale, fanno fuori due, e con l'attacco il corpo a corpo, due, quindi io, in teoria, ma anche in pratica, di sicuro, perderò uno, due, tre, tre personaggi, forse quattro, oppure, dipende dove si utilizza il pugnale, su di me o no, ma vediamo, diciamo che mi voglio, proteggere, perché, preferisco proteggermi, in questo caso, ok, posso proteggermi, per il prossimo danno, e ho sempre un punto di mana, che tanto, è bene che usi, altrimenti, viene sprecato, e il prossimo turno, si riempie, quindi metto un campo, un altro personaggio, e diciamo che metto, questo qua, qua, cerco di tenere un po', il nemico, circondata, su tutti i lati, passo il turno, non ho più niente, da giocare, come, non faccio gli errori, di prima, di lasciare una carta, inutilizzata, e vediamo cosa fa il nemico, ecco, ho fatto fuori, no, non è troppo male, poteva andare peggio, poteva andare peggio, come vedete, ho perso lo scudo, però, mi è stato bene così, è stato un deterrente, ora, ricordiamoci, che il nostro obiettivo, è far fuori, il boss, di questa battaglia, che è lui, e ha 5 punti feriti, adesso, la giusto bene, potrei farlo anche fuori subito, vado avanti, faccio 3 danni con il mio eroe, con questo, giavellino, giavellotto, che non ho utilizzato prima, adesso lo uso, e infliggo 2 danni, e, scelgo questo come bersaglio, e abbiamo vinto la prima partita, ok, lot, prendiamo il nostro, bottino, ok, dice, select any card you want to keep, scegli ogni carta che vuoi tenere, le prime due, sono gratis, oppure tre, puoi prendere tre carte, se, il nemico era un elite, o un boss, in questo caso no, era un proprio, un primo personaggio, primo nemico, quindi, posso prendere solo due carte, ogni carta addizionale, che vuoi prendere, costa un flerstone, quelle pietre, che si diceva inizio, sono qua, abbiamo detto, le vedremo dopo, questi preti, mi permettono, di prendere più di una carta, se c'è qualcosa, che, mi ispira, io volessi prendere più di due, adesso, come meccanica, che è questo gioco interessante, c'è questa cosa qui, ogni volta che c'è una carta, che io, giocatore, non ho mai visto prima, non ho mai incontrato, lui mi fa, mi mette questa iconcina sotto, new, fisicamente dice, tutte queste le hai già viste, almeno una volta, questa non l'ha mai vista, l'abbiamo messa no, ora con l'ultimo aggiornamento, bene che ci danno chiara, e lo guardiamo, questo personaggio dice, attacco 1, puntiferita 3, guadagna più 1, più 0, quando un minion, è distrutto, ok, non specifica se, è un minion nemico, o alleato, potrebbe essere che, qualsiasi, sia nostro che nemico, però, questa se fosse solo, delle due fazioni, bisognerebbe dire agli sviluppatori, guarda, è bene che nella carta, specifichi questa cosa qui, perché, sennò, uno non so come gestirla, vediamo le altre carte, questo è, una magia, spell, come vedete, da sopra l'icona c'è scritto spell, e, deal your power as damage to all units in line, from your hero stati, ok, che, praticamente, la faccio breve, da dove è il nostro eroe, fino al bersaglio nemico, parte, si traccia una linea retta, e, ogni creatura, che c'è in quella linea retta, che sia, amica o nemica, subisce, un danno pari, alla potenza del mio eroe, in questo caso, il mio eroe ha potenza 2, farebbe danni a tutti, indipendente se sono alleati o no, in questa linea retta, e, questo è un altro alleato, attacco 1, punti ferita 1, questa abilità warcry, il addition frame the minion for 1, ok, so warcry, when played, the minion performed is effective, warcry vuol dire che, come abbiamo visto con l'eroina, l'alleata di prima, che aumentava la forza, di quelli, intorno, quando entra in campo, questa stessa cosa, quando lui entra in campo, cura di un punto ferita, tutti i, i minion alleati, che sono adiacenti a lui, che non è male, questo è un altro arciere, a distanza, attacco 1, 3 punti ferita, quindi, il contrario di quello di prima, che abbiamo, sembra 3-1, quello di prima, range 2, quindi sempre 2 di raggio, ignite 1, vuol dire, appiccare il fuoco, e, prendente il turno dopo, il nemico, oltre a subire il danno, della freccia, in quel momento, all'inizio turno, subisce un addizionale, danno, pari al livello di ignite, so che la pronuncia, non la so, prende, in questo caso, un punto, se fosse stato 2, chiaramente subirebbe 2 danni, e, niente, questa qui, è un'ascia, ok, questa qui, va a rimpiazzare, l'arma che sto usando ora, che è la spada, che infligge 2 danni, anche questa qua, infligge 2 danni, come la, come la spada, può essere potenziata, non l'abbiamo visto, ma lo vedremo, però, questo è il primo livello, fa 2 danni, niente, non ha nessuna abilità speciale, quindi al momento, non c'è nessuna differenza, però magari, potenziandola, ci saranno delle differenze, che vedremo, diciamo che, io posso prendere, solo 2 carte, mi prendo, questo è un grandissimo, perché mi piace, e, questo qui, pure mi sembra interessante, come eroe, ok, per la meccanica, vi faccio vedere, mi prendo questi due pure, del flaystone, spendo una, come vedete, adesso va da 2, e un'altra, e adesso va da 1 solo, e mi prendo queste cose qui, queste 4 carte, questa è la ascia, perché non voglio spiegarci, un'altra flaystone, per avere, un'arma addizionale, che è uguale a questa che ho, ok, quindi continuiamo così, personaggi, vediamo che abbiamo sempre, quest'arma, non possiamo cambiarla, perché non abbiamo preso nient'altro, e adesso abbiamo, 15 carte, prima ne avevamo 11, quindi quando andiamo a mescolare, il mazzo, all'inizio partita, se il nostro array, perché noi avremo un array, quando creiamo queste cose, si sarà ingrandito di 4, da 11 a 14, scusate, da 11 a 15, aggiungendo 4 carte, quindi, più, si va a, prendere le carte, in questo tipo di giochi, più è difficile può farsi anche una strategia, perché pensate, io, posso avere anche un mazzo di 100 carte, come vado a indovinare, che cosa mi, che cosa andrò a prendere, quando non le mescolo il mazzo, è un po' difficile, quindi se io, mi faccio tutta una strategia, del tipo, ok, prendo questa carta, poi, in media, ogni due turni, posso prendere, quest'altra seconda carta, addizionale, per potenziare, per potenziare, o fare delle combo, quando voi avete, un mazzo di carte, esageratamente ampio, risulta difficile, farsi delle strategie, però, non la vieta, che non sia divertente, giocarlo, io, questo gioco, la prima volta che l'ho finito, l'ho finito con, un mazzo tipo di 80 carte, quando l'ho detto allo sviluppatore, è rimasto sorpreso, diceva, di solito la gente, non si fa un mazzo così, così grande, però, sono contento che, è possibile finire il gioco, anche in questo modo, e niente, per me era divertente, perché, mi piaceva avere le cose, casuali, ogni partita, ogni incontro, però, chiaramente, se vi fate una strategia, fare un array, con piccole, carte, più, più salutare, diciamo così, poi dipende, se volete finire il gioco, o se lo fate giusto, per divertimento, ok, andiamo avanti, qui abbiamo un altro, un altro nemico, di livello 1, che dà 15 punti esperienza, abbastanza, per farmi passare al livello 2, oppure, si va dal Fabbro, e andiamo dal Fabbro, che niente da perderci, e il Fabbro ti dice, guarda, vuoi, aumentare la potenza delle carte, oppure tornare indietro, chiaramente, noi, diamo una svecciata, vediamo cosa si può fare, e gli dice, il primo potenziamento, lo offro io, poi, dal, dal secondo in poi, mi dai un cambio, un tesoro, adesso, come vedete qui, abbiamo zero tesori, quindi possiamo fare, solo il primo potenziamento, gratuitamente, che, non è che ci si lamenti, però, non possiamo fare, un secondo potenziamento, e queste sono le carte, che possiamo potenziare, credente, al momento, tutte quelle che abbiamo, nel mazzo, vedrete, che poi, certe carte, non si possono potenziare, quindi, vediamo un po', se io clicco, per esempio, questo, è, già vellotto, che prima, di base, fa due di danno, se lo vado a potenziare, vedete, che fa tre di danno, oppure, potrebbe, questa, questo eroe, che, praticamente, ha sempre, l'abilità, di aumentare di uno, la potenza, di quelli adiacenti, però, aumenta di uno, i suoi HP, invece, che uno, fa due, questo, quello che si muove, ehm, subito, quando messo in campo, da un punto ferita, va due, questo qui, quello che cura, quelli intorno, ok, questo è ottimo, perché, aumenta di uno, l'attacco, di uno, i punti ferita, e aumenta anche di due, di uno, da uno a due, la cura, che fa, a tutti quelli accanto, ricordiamoci, che tutti questi, sono, sono variabili, che, chiaramente, nel nostro gioco, si possono, facilmente, andare a aumentare, perché, quando io ho questo array, con i valori della, della carta, vado a, aumentare questo, questo valore, relativo al, alla vita, e al danno, al beneficio, andando a cambiare, questa variabile, in modo, molto semplice, sembra una cosa complicata, a dirla, ma, è facilissimo, vedremo, quando andremo, a fare gli array, e niente, questo qui, l'arcere, l'arcere, con la fionda, da, da tre di attacco, va a quattro, da uno, punto di vita, due, e addirittura, il raggio da due, va a tre, quindi, non male, questo è il guardiano, sempre l'abilità, di attaccare, per primo, quando qualcuno, si muove, fa questo attacco gratuito, e anche lì, aumenta di, l'attacco di un danno, quindi va a tre, che non è male, per niente, questo è molto tattico, lui aumenta di uno, normalmente, ogni turno, la forza aumenta di uno, continua a aumentare di uno, in più, praticamente, ha un punto ferita, lo scudo, invece, che fare, una parata, per un turno, fa due parate, per un turno, qua questo qui, quella prende, che dà, alle frecce incendiarie, aumenta, niente di come attacco, e come punti ferita, però, fa un danno in più, con la freccia incendiaria, che è, quindi, a fronte di tutto questo, per farla breve, direi che, io mi aumento, non so, sicuro, se questo qui, che cura, però ancora, non l'ho mai provato, oppure, però, se c'è, lo fa solo, appena messo in campo, e lo fa solo sui minion, non lo fa anche sul giocatore, quindi, se fosse sul giocatore, di sicuro, lo farei, perché avere, ogni turno, ogni turno, durante una battaglia, qualcuno che ti cura di due punti, non è male, da, diciamo che mi aumento, il, il, ma, secondo me, è quello più, che mi interessa, più fattive, che, torniamo indietro, e andiamo a affrontare, questa prima battaglia, ah, qui, si può, chiaramente, trascendo, cliccando con il mouse, e tenendo pigiato, il tasto sinistro, si può, guardare la mappa, anche questo, la meccanica, si potrà vedere più avanti, clicco sul nemico, e, per dire, non abbiamo un pathfinding, e si va direttamente qua, scappiamo, o combattiamo, vediamo il mazzo, prima, questo nemico, attacco 1, 16 punti ferita, nessuna abilità speciale, questo cos'ha, 3 di attacco, 1 di danno, niente cose particolari, questo è un incantesimo, da a tutte le tue unità, più 0, più 2, quindi aumenta di 2, punti ferita, di tutte le tue unità, che, considerando che, come, la sequenza, di solito, che fanno, è sempre, la stessa, come abbiamo visto prima, in un turno, creerà due di questi nemici, minion, e il turno dopo, ne aumenta di 2 la forza, se non facciamo fuori qualcuno, in fretta, prende ogni due turni, questo aumenta la potenza, e diventerà un po' due, a tirarlo giù, combattiamo, vediamo, dai, cerchiamo, a farlo breve, queste carte, cosa abbiamo, aumenta la potenza, di un ogni turno, questo potrebbe essere interessante, perché i nemici, anche loro aumentano, la vita, questo, World Cry, Archerine, abbiamo due, si, mi interessa, però voglio vedere, ho troppe, ho solo 3 mana, e non posso, avere 5 carte, che costano, ognuna 5 mana, è un punto mana, quindi, 2 le scartano automatico, tanto vale che, tento la fortuna, e, pesco qualcos'altro, ok, ho preso un altro, personaggio, però ho preso anche, il giavellotto, che fa 2 danni, ok, prima strategia, mi metto, il picchiamo in fronte, così se lui viene giù, si becca 3 danni, poi prendo, l'arciere, che lui ha, quanto raggi ha? 2 di raggio, ha esposto il giocatore qua, così ho un po' più, spazio di manovra, lui è il medico, non ha senso, metterlo in campo adesso, quindi lo scarterò, questo lo uso ora, prima che me lo dimentico, gli faccio 2 danni, quindi, la scelta tra lui, rager, che aumenta la forza, e lui, la faccio rager per ora, andiamo a dimettere un campo subito, come, così aumenta subito la forza, e poi questo, l'arciere, me lo metto dietro qua, questo lo devo scartare, non ho altre opzioni, e vado avanti, avete visto che, ha subito subito, 3 danni, più lui, chiaramente, nemico ha attaccato, il nostro, alleato, gli ha fatto un danno solo, ma siamo a posto, la sequenza, che lui avrà, è, di fare un, di aumentare la vita, di questi qui, di 2, quindi, se non li faccio fuori, in questo turno, loro diventano più tosti, ok, la meglio cosa è, che io faccio l'attacco, con questo qua, qua, subito, prima che me lo identico, così, levo un punto ora, e poi, gli darò fuoco, brucia, al prossimo turno, quando il suo turno, prende un punto di danno, questo, ah, questo, questo, quando un nemico è distrutto, lui guadagna, più 1, più 0, mi sembra interessante, allora, lui, faccio fare l'attacco, qua, e questi, li abbiamo fatti tutti, in due, si possono muovere, però, come vedete, l'azione è 0 su 1, hanno fatto l'azione, faccio che questo, muove qui, attacca, lui può, attaccare subito, così, gli facciamo sprecare, questa carta, che presunto torna a lui, ah, che scemo, devo mettere in campo, questo qui, per vedere cosa succedeva, se prendevo i punti, quando il nemico veniva distrutto, vabbè, lo mettiamo in campo adesso, abbiamo un suo punto, mettiamo lui, e facciamo fan attacco subito, e si, lo metto avanti qua, di uno, e due avanti qua, di uno, non mi importa, se vengono distrutti, però, per ora, cerco di circondare il nemico, la cosa che posso fare, è, do lo scudo, a lui, quindi, almeno lui, lo proteggo, dall'attacco del nemico, quindi, in teoria, lui va avanti, fa fuori questo qua, e si mette nell'angolino, avendo, meno spazio, per poter evocare i nemici, solo una, se lui va qui, chiaramente, avrà solo una casella qua, e una casella qua, se non lo circondo, e quando lo mettiamo nell'angolo, e, una volta che occupiamo le caselle adiacenti, lui non può evocare nessuno, per quest'uno, quindi, questa è una buona strategia da fare, subito un danno da fuoco, e si è, come avete visto, quella magia qui che cura, funziona anche su lui, give all your units, ok, quindi anche lui stesso, vabbè, 4, il 6 è ancora vivo, io posso fargli, con questo qua, 3 danni, con questo, 2 danni, c'ho già l'8, c'ho lui che avanza, e tira fuoco, c'ho il danno sempre di fuoco, è entrato proprio, non c'è scampo, è stata una battaglia veloce, e facile, sono passato di livello, avete visto qui, andato su, questo, più 3 HP, che si può fare benissimo, con, combinando, un effetto di, fade, plus, più l'effetto bullet, verticale, andando in su, quindi sono, cose semplici da fare, e, abbiamo visto che abbiamo, 6, carte, stavolta, non 5, il problema è che, adesso io ho usato già, due di queste pietre, quindi, sarà ancora più dura, scegliere qualcosa, posso prendere solo due, allora, questo qui è un incantesimo, infliggi un danno, ad un nemico adecente, al tuo eroe, se questo distrugge il nemico, prendi, pesca una carta, non è male, un danno, tu hai un nemico adecente, io e io, ok, questo è uno dei miei favoriti, questa qui è una creatura, che però, non si muove, è uno standard di battaglia, ha attacco 0, 3 punte ferita, e come vedete qui, c'è scritto qui, è sulla destra, non si può muovere o attaccare, aggiunge un punto di forza, ad ogni unità che controlli, e questo, anche se, indipendentemente, da quando l'unità entra in campo, aumenta di uno, quindi è ottimo, questa carta è nuova per me, come per voi, ovviamente, 2 riattacco, 2 punti ferita, 3 range, che è sempre ottimo, e il knockback, è un'abilità interessante, perché spinge indietro, il nemico, che è il bersaglio, e chiaramente, se la casella opposta, è libera, e se non è libera, quando spinge indietro, se non ricordo male, sia, cioè, se c'è un muro, il bersaglio, subisce un danno, se invece c'è un'altra creatura, che sia amica o nemica, sia la creatura, che è spinta indietro, ma rimane nella casella, sia quella che gli sta di dietro, subiscono un danno, quindi, questa è tattica, e Warcry, questo qui è anche interessante, rimuove un blocco, da un, un'unità, nemica adiacente, e dà a questa carta qui, più uno di forza, per ogni, per ogni scudo rimosso, quindi non è male, questo qui è, una carta che può essere usata, anche al di fuori, delle, delle battaglie, quando ci si muove nel dungeon, si può prendere, cinque punti ferita, oppure si, si può usare, mentre, siamo a, a combattere, se si pesca la carta, si può utilizzare, si aumenta di cinque, punti ferita, però, è una carta che, una volta utilizzata, scompare, sia che l'usate in battaglia, che sia che l'usate fuori, questo qua, invece, è un tesoro, questo tesoro, praticamente, si può, barattare, come abbiamo visto prima, con, blacksmith, in cambio, di, un upgrade, per una carta, oppure, sicuramente, si può ottenere, come carta da normale, e dice, dà al bersaglio, un stack of bleeding, presente, da un segnalino, che indica, sanguinamento, blinding dice, quando, attacking, apply, ok, vedete, per ogni, per ogni carica, subisce un danno, questo tesoro, oltre tutto, vale 20, come vediamo, treasure 20, i tesori, che praticamente, si trovano, nel dungeon, sono, convertiti, in monete, quando, si, si finisce il gioco, ovvero, se questo gioco, ha, per esempio, tre livelli, come tre piani, di dungeon, e noi finiamo, tutti e tre livelli, cosa facciamo? Abbiamo raccolto, un tot, di monete, in base, a quanti tesori, ci siamo portati a casa, con queste monete, poi, possiamo sbloccare, carte, o personaggi, nomi, come abbiamo visto, in caso del rogue, all'inizio, che devo spendere, cento monete, per sbloccarlo, quindi, chiaramente, aggiunge un valore, di rigiocabilità, al gioco, ok, quindi, ne possiamo scegliere i due, prendo sicuramente, lo standard di battaglia, e, la pozione va presa, la pozione, ragazzi, specialmente all'inizio, obbligatorie, e poi ci spendo questa pietra, e, è dura a spenderla adesso, perché più avanti, ci saranno carte, molto migliori di queste, però, sai, queste qui, la voglio vedere come funziona, questa carta, la curiosità me la prende, il tesoro, come vedete, non posso prenderlo, perché, ho la scelta limitata, e lo lascio qui, è un po', una cosa brutta, non lo so, vedremo, ah, poi ti dice, hai, sei passato di livello, guadagnato tre punti ferita, puoi scegliere un talento, allora, prima, lo preferivo come era prima, questa cosa dei talenti, perché lui faceva vedere, tutti i talenti, in base a cosa sceglievi, cosa potevi sbloccare dopo, tipo un albero, mentre adesso, fanno solo vedere, cosa puoi sbloccare in questo momento, che magari, fa un po' meno confusione, però, preferivo prima, per, farmi una tattica, ok, vediamo i talenti, questi abbiamo, get one extra spell option, each drop back, no, get one extra spell option, each drop back, ok, vai, prendi, prendi un incantissimo in più, se non ho capito male, almeno, non so se è umana, dice, strada, di solito c'era umana, può darsi che abbiano cambiato le definizioni, resti di imprese, il talento, prendi mini summon, adecento yugo, buono, questo è ottimo, prendi, ogni alleato, che io creo, metto in gioco, accanto al mio eroe, guadagna, più uno di, punti ferita, che non è male, e improve recruitment talento, aumenta, the drop rate of two, and three star minimum, ah ok, praticamente dice che, quando, sconfiggi un nemico, che lascia, dovrebbe lasciare due carte, aumenta, la possibilità del 15%, sembra un per cento, questo, no, 15 per, la sarà percentuale penso, però, questo mi sembra la cosa, più interessante, dare un potenzialmente subito, all'alleato, a meno che questo sia al mana, e anche quello sarebbe buono, però, partiamo con questo, vediamo cos'è, oh, lo sceglie, non l'ho sbloccato, ok, finiamo a mappa, sempre cose, volte bloccate, punto interrogativo, evento casuale, può essere buono, può essere, chiaramente un incontro, quel che è, vediamo, ok, you come across a strange statue, embedding wall, ok, praticamente, c'è una statua, che è, ricavata dal muro, e, niente, la possiamo, prendere la statua, oppure lasciarla, come dice qui, statua, suspicious state, sospettosa, la cosa, la prendiamo, ah, ma ti dici cosa fa, leave, e non succede niente, e, prendi la statua, white dog statue, e perdi tre punti ferita, ora, io dico, di prenderlo, perché conosco, che questa carta, è una buona carta, quindi ne vale la pena, e me la prendo, vedete qua, è una creatura, che ha, tre di attacco, tre punti ferita, e, allo stesso tempo, è un tesoro, che vale 30, i nemici, che sono attaccati, da questa carta, non si possono muovere, nel prossimo turno, quindi, molto tattica, molto, molto tattica, e vediamo qui, un altro nemico, di sempre, di livello 1, 15 punti esperienza, e adesso, non bisogna farne fuori, tre di questo tipo, per passare, al terzo livello, certo per certo, di sfuggire, vi faccio vedere, com'è la fuga, giusto per, questo cosa ci aveva, intanto le rincontreremo, qualcosa simile, quindi non vi preoccupate, giusto per farvi vedere, la meccanica, ah, quindi punti ferita, sono scesi, come abbiamo visto, perché, abbiamo preso questo tesoro, scappo, 100%, ok, però, posso sempre, tornare indietro, in questo caso, non ci interessa, potrei tornare indietro, per andare da blacksmith, a dire il vero, per dare via, la carta appena preso, per potenziare un altro, ma non ne vale la pena, oppure, passando avanti, far fuori questo qui, far fuori, vediamo, adesso, se vedete, il 75% di fuggire, lui ha, 3 di attacco, 18 punti ferita, comincia ad essere più grossi, e, in questi qui, lui fa, questi due creature, al primo turno, e questo è il secondo, cosa fanno, hanno l'abilità, last word, che fanno, due di danno, all'unità adiacenti, tutte, amiche o nemiche, quando muoiono, prende, quando non le uccidiamo, chi c'è accanto, subisce due danno, anche loro hanno, last word, ma funziona in modo diverso, da tutti, i minion alleati, tutti, i scagnozzi alleati, dell'avversario, più uno, più uno, quando muoiono, quindi, questa è un po' dura, come cosa, adesso, vedete, la percentuale, si è abbassata, da 100 diventano 75, più scappate, più che, è difficile fuggire, facciamo che combattiamo, cerco di farla, un po' breve, la cosa, qui abbiamo già visto, tutte le carte, me le devo prendere, come sempre, abbastanza, io, come vedete, qui si vede male, ma ho sempre tre mana, quindi non posso mettere, tanto in campo, questa mi piace, metterla in campo, ma, costa due, e parto, diciamo, svantaggiata, qui mi ci vogliono, eh, dura, perché i nemici, ci vuole qualcuno, che attacca a distanza, non ho niente, io direi che, perché questa, aumenta la forza, di uno ogni turno, questo è quello che, cura, non mi serve al momento, mettiamoci questi qui, giusto per far vedere, le carte a voi, li presco, questi qui, vediamo cosa, cosa teniamo, aumenta della vita, che la teniamo per dopo, questo lo metto subito, il banner, muovo questo qua, ah, il giocatore ha qualcosa qui, si sono dimenticato, aggiunge, aumenta di uno, la vita dei cose, degli alleati, che evoco, accanto a me, ok, quindi io metto questo qua, metto il banner, che aumenta di uno, l'attacco, quindi l'attacco, anche per lui stesso, se aumenta di uno, però, chiaramente, non potendo attaccare, serve a poco, a me, che le abilità speciali, usano le cose sue, e niente, l'eroe ha aumentato, di uno, i punti finiti di questo, questo qua, da neppure uno, pizarro, quando il nemico viene distrutto, ah, il nemico fa tre di danno, non sono dimenticato, queste cose, quindi lui, se gli metto qualcuno, qui davanti, automaticamente, subisce tre di danno, però, potrei ammettere questo, perché, con la mia, nuovo talento, io aumento di uno la forza, uno la forza, gliela do io, lui da, cioè io aumento uno, punti ferita, lui da uno di forza, diventa 4-4, non ho più mana, posso usare questa magia, che mi aumenta di 5 punti ferita, sono un po' uno spreco, perché, se sono a 10, li potrei usare, ma adesso no, quindi, lascio stare, non posso fare nient'altro, passo il turno, ecco come immaginato, lui attaccava questo qui, quindi, le ultime parole di questo sono, infliggi due danni, alle unità adiacenti, ok, allora, io faccio che, con lui, attacco questo, e mi sposto di lato, e lui non si muove di qua, poi, con lui, aspetta un attimo, lo metto qui, attacco questo, lo sacrifico, ok, ho ancora 2 mana, lui ha subito, due danni dall'esplosione, oltre, questo qui che è esploso, ha fatto due danni a questo, e anche al mio, al mio, alleato, però adesso posso usare, il giavelotto su questo qui, che faccio, lo stesso tempo fuori lui, e infliggo comunque, due danni che, infliggerei usando il giavelotto su questo, e ho fatto due danni a lui, ok, io ho sempre 2 mana, questo non si può muovere per questo turno, però può, evocare creature intorno a sé, io ho la possibilità di usare questo, alleato, aspetta, prima mi sposto, uso questo qui, così potrò spingere lui indietro, e poi metto questo qua, qua, così quando qualcuno si avvicina, lo colpisco automaticamente, ok, questo non lo posso usare, passiamo il turno, ok, ottimo, allora con lei, faccio che spingolo indietro, e tutti e due hanno subito un danno, oltre che, avrei fatto 3 danni di lui, poi, dell'io power, questa magia, impiegono montare di danno, pari alla mia vita, in linea retta, se lo faccio così, chi prendo, ah, posso fare solo, ok, che è no, non al momento, a me che vorrei sacrificare, allora, lui ha 8, si può vincere la partita così, si può vincere senza troppi intoppi, allora, giusto per farvi vedere, come funziona questa magia, io sacrifico, faccio linea diretta, 3 danni a tutti, fado a diritto, e faccio un danno comunque, 4 danni, e a poste, come vedete, è ottimo, questo gioco è buono, si combinano le carte, in modo interessante, fate diverse cose, effetti, anche qui, prendete due carte, allora, questa scimitarra, fa due danno, come la spada normale, però, ha l'abilità multi strike, praticamente, l'unità può, fare un attacco addizionale, come vedete, ha una stellina, questo non si può potenziare, al contrario della spada che ho, però, al momento, questo mi permette di fare due attacchi, in un turno, quindi è buono, questo è una creatura, 4,5, che costa solo uno, non vorrei dire, ma sembra buona, anche questo, questo già lo sappiamo, e questo, aggiunge la potenza, di questo, a the minions power, to its current power, when it destroys the game, prendete, quando distruggo, un nemico, aggiungo, la forza del nemico, che ho distrutto, a questo qui, che non è male, però, prendendone due, mi sinceramente, vado su questi, questi qui, ok, chiamiamo tempio, ho un portale, tempio, cosa ti dice, ignora, vai via, oppure, rimuove una carta, rimuove una carta, gratis, la prima volta, dopo di pagare due, come dicevo prima, quando avete troppe carte, il problema di questo gioco, il problema, è strutturato, chiaramente così, è che, quando, continuate a prendere troppe carte, rimanete poi, con un mazzo, troppo grande, e quando prendete, carte buone, e avete un sacco, anche di, carte vecchie, deboli, rischiate, di pescare, carte deboli, quindi, non le volete, con questo, come il blacksmith, la prima volta, potete, gratis, rimuovere una carta, dalla seconda carta, un po', dovete pagare un tesoro, quindi, se avessi, tante carte potenti, qualcosa, di, diciamo, debole, che vorresti, vorrei, levarmi, di giro, potrei usare questa carta, al momento, questa carta, questo personaggio, al momento no, ritengo tutto, vado avanti, vado al portale, che mi dice, vuoi fare la strada normale, o la scura, che è più difficile, ma più, più tesori, oppure indietro, ma tanto, non si fa più di tanto, a parte quel mostro, che non abbiamo ucciso, facciamo quello scuro, ok, si è aperto il portale qua, e come vedete, qua i mostri già, livello 2, sono di livello più alto, 75% di possibilità di fuggire, basta nemico, da tutti i minion, più 1, più 0, tutti quelli adiacenti, tipo la verità che ho io, questo è un attacco a distanza, 3, rirà, raggio, questo, alla fine di ogni turno, guarisce, l'unità amica di, fino a 3, che non è proprio ottimo, e questo spinge indietro, e fa un danno, oltre a avere, haste che agisce subito, facciamo che fuggiamo, voglio vedere, se riesco a far vedere, qualcosa di, di diverso, questo l'abbiamo fatto prima, dai, facciamo la battaglia, dai, se no, non vi faccio vedere le carte, voglio vedere, se riesco a far vedere un boss, però, se non faccio le battaglie, non arriva molto potenziato al boss, quindi, è un po' dura la cosa, cosa vuoi mettere in campo, non ho neanche visto bene, cosa, comunque, come sempre abbiamo 3 mana, questi costano troppo, allora, lui lo scartiamo, perché all'inizio non lo usiamo, e il nemico è qua, est, si, allora, facciamo che metto, sia questo che questo, lascio questo, giù, ok, ripeschiamo, allora, subito si parte con il giavellino, giavellotto, giavellino, poi, sposto il personaggio, metto un campo questo, metto un campo, questo chi era? più uno, più zero, quando un minion ha distrutto, dopo, adesso faccio lui, quindi potenziato, lui lo distruggerà subito, perché fa 3 di danno, però, io voglio subito andare a fargli un attacco, e fargli calare la vita, il primo possibile, e poi non posso fare nient'altro, devo scartare, con il mio personaggio, mi sono mostro, non posso attaccare, e mi sono dimenticato, di dargli la spada, la doppia arma, non lo posso cambiare l'arma, durante il gioco, dobbiamo cambiare la prima, durante la battaglia, dimenticanze, che è stato un errore, ma cercheremo di rimediare, qui che abbiamo, che faccio il danno, a lui di questo, uso la magia, faccio il danno di ineretta, e mi le levo, poi abbiamo, lui lo lascia qui, a protezione, lui ha un mana solo rimasto, lasciamo questo qui, che si potenzia, vediamo, vediamo, gioco velocemente, senza pensare troppo, ecco questo, vedi, un gnale non l'ho visto, che ce l'aveva, mi sta facendo fuori, un po', ma ce la possiamo ancora fare, ancora, è ancora lunga la cosa, ora lui l'abbiamo, qui e ce lo eleviamo, facciamo subito, 4 danni di lui, mettiamo un campo questa, mettiamo un campo, il ragazzo con East, e gli facciamo subito, Artifiche dei danni, poi abbiamo il guardiano qui, e ci diamo uno scudo a qualcuno, diamolo a, e rilettiamolo a guardiano, a lui, vediamo quanto reggiamo, questo è ancora vivo, topo non fa niente, ok, a lui ha aumentato di 1 la potenza, quindi si va avanti, aspetta, fermo, non attaccare, quanti punti ferita ho? 9, ma si usiamo la pozione adesso, si sa mai cosa succede dopo, con gli eventi casuali, e facciamo fare lui, e abbiamo fatto un fredda, si è giocato un po' male, però, l'importante è avere il risultato, abbiamo un arco, 2 di danno, distanza, 2, e da fuoco, quindi non è male, però questo è, il problema dell'arco, se vedete c'è scritto arching, my attack up to the number of squares indicates away, attaccare fino a 2 caselle distanza, but not adjacent, presente non posso attaccare con gli adecenti, quindi non è che, mi piaccia troppo la cosa, e questo ha haste, e spingi, knockback, questo non è male, questo ha raggio 2, e penetra, praticamente se ci sono, più di un nemici, tra lui e il bersaglio, anche questi qui subiscono, danno, e non è male, questa è nuova, forza 1, 3 punti ferita, friendly unit, più 2 poveri, mentre sono dicendo, oh questo è ottimo, questo lo prendiamo di sicuro, e poi prendiamo, questo qua, dai, andiamo, resto ho guadagnato, 3 punti ferita, oh buono, prima non era così, non guadagnava così tanti punti ferite, questo ha, questo è uno dei miei talenti, che preferisco, alla fine di ogni battaglia, questo tipo di personaggio, con l'altro non funziona, guarisce di 2 punti ferita, questo è quello che abbiamo visto prima, questo prima pure, e questo è, guadagna un extra flaystone, a the end battaglia, questo pure non è male, però, due punti ferita automatici, a fine di battaglia, sono molto buoni, secondo me, mi limino il problema delle pozioni, anche se non è diverso, che è questo evento casuale, boom, trap, boom, trap, e qui non si può, vedere, né le carte, né fuggire, niente, bisogna combattere, e di solito, da memoria, ah si vede le carte, qua vedete, è molto tosto, nemico a raggio 3, 2,16, questo è un raggio 3, 1,1, e questo è praticamente, Joseph charge of take aim, take aim, all'inizio del tuo turno, vincere, attack, ah, non è fatta con nemico in raggio, o nemico, no, fanno attacco all'eroe nemico, che sono io, ignorando il raggio, e poi si rimuove questo effetto, se l'eroe, si muove, rimuove questo effetto, che, hanno cambiato un po', prima non era così, però, vi ricordo che, c'erano questi muri, prendete, c'è un muro che c'è, da distrugge, per raggiungere nemici, quindi se non facciamo attacchi a distanza, è molto dura, continuo a dimenticarmi di cambiare l'arma, vediamo se posso cambiarla adesso, sì, ottimo, prendo questa che fa due attacchi, e siccome lui fa tutti gli attacchi a distanza, devo prendermi tutte le cose che fanno attacchi a distanza, uno, due, tre, e lui lo lascio per ora, e cerco di, prendere un'altra carta e costa zero, se ce l'ho, no, vabbè, però loro fanno pure gli attacchi a distanza, e fanno un danno, quindi, questo è suscettibile a morire subito, se non mi gioco bene le carte, quindi, io farei che questo, lo faccio fuori subito, leviamocene uno, poi, avanzo, e faccio, due attacchi qui, perché fa fuori questo muro, se no non posso andargli corpo a corpo, una volta che siamo corpo a corpo, ci si fa, arrivarci, il problema, con questo, andiamo qua, e con questo lo mettiamo qua, e qualcuno devo sacrificare, ce lo devo mettere uno da sacrificare, anziché ci metta lei, che fa, aumenta i danni, e lui lo scartiamo, andiamo, ha fatto fuori lei, ottimo, questo rigge il colpo, ottimo, ottimo, lui vedi, può evocare al di là del muro, perché il muro è il suo alleato, e questo cosa faceva, più due fino a, affinché sono adiacente, oggi aumenta la forza di due, ottimo, quindi questo, vabbè, non è più adiacente, ma ci importa il giusto, facciamo fuori questo, quello di qua, aumenta la forza di due, quindi adesso vado a quattro di forza, con primo attacco, e il secondo faccio un bel buco, in questo muro, scelto lui con est, che fa subito un attacco, e faccio fuori, e addirittura, ma vanno davanti lui, così, così ci posso evocare, dietro questo qua, e questo qua, attacco questo, avanziamo, così non evoca nessuno qui, non ho altre opzioni, però diciamo, non è andata troppo male, subito uno, nella freccia, nell'unice di aria, dovremmo essere in grado di, allora, tanto mettiamo questo, un campo che se costa due, ce lo mettiamo subito, aumentiamo la forza di tutti, di uno, questo gli diamo, una bella, sassata nel viso, di cinque, come lo mandiamo a otto, come personaggio, posso fare due attacchi, ma un movimento solo, quindi, andrei qua, spacchiamo qua, tutto, questo gli faccio un attacco a lui, e gli do la fiamma, e ci mettiamo, lui con est, sì, e faccio subito un attacco, lo manda a due, poi mi do, vediamo, 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 questo è già fatto, questo non si può muove, perché l'ho chiusa qua, avviciniamola, lei può fare l'attacco a questo, ce lo leviamo, così, uno o meno di giro, ah, questo è il raggio 2, penetra, lo lasciamo qui, nessuno gli dannoia, ah, il medico, il medico, chi è ferito, chi è ferito, lui, di uno, ah, no, non c'è abbastanza mano, ho dimenticato, scudo lo diamo a, diamolo a lui, leggiamo un po', vediamo, vediamo un po', ragazzi, non è ora 20, quasi che sto parlando, quindi, anzi, più la parte pre-registrata, dell'inizio, sarà, sicuro, oltre alle 20, diamo di farla, finita presto, non so se vi state annoiando, spero che, è interessante questo gioco, vedete, tutto quello che stiamo esaminando, adesso potete chiaramente chiedermi, come si fa a fare questo, o quello lì, non ne andiamo a scoprire, è una cosa importante, che mi sono dimenticato di dirvi, non so se avete notato, in questo gioco non ci sono tantissimi effetti, non c'è molte animazioni, e questo è ottimo, se siete dei programmatori, e non avete artisti, o comunque avete delle risorse limitate, magari prendete degli asset già fatti, e non avete animazioni, se avete visto, tutte queste carte, quando sono in battaglia, non fanno animazioni, loro al limite, girano un po', ruotano, si ingrandiscono, fanno l'effetto di zoom, o si spostano, scuotano, ma non fanno mai, un cambio della faccia, o cose del genere, quindi, con queste piccolezze, se voi, avete delle mancanze, per, potrei vi dire, che non avete persone nel team, non potete permetterlo con i soldi, o quel che vi pare, di talenti grafici, anche con delle animazioni statiche, potete fare un gioco, di questo genere interessante, vedete tipo, qua, quando vado sopra, quella lente di ingrandimento, non è che è un'animazione diversa, è la stessa lente, che ruota un pochettino, avanti e indietro, però, questa lente qui, dà un effetto carino, tutto così il gioco, si riesce a, a volte, con delle piccolezze, a compensare, a delle lacune, è molto importante, secondo me, fare anche, l'ho già detto altre volte, delle game jam, perché le game jam, vi danno delle costrizioni, praticamente, vi danno dei limiti, e voi, con i limiti, usate di più la creatività, capito, grazie a limiti, che si riescono a, a creare delle meccaniche interessanti, perché, con poche risorse, vediamo come, ok, ci distraiamo di meno, se avessi, per esempio, dovessi fare un disegno, e uso, photoshop, o quel che sia, e ho 16 milioni di colori, a disposizione, io ci sto un po', a pensare, come disegnare il personaggio, con che colore, e così via, se invece ho, una palette limitata, che dice, perché sto facendo una gem, o per quel che sia, ho solo 12 colori, allora, sarà molto più facile, e veloce, disegnare il personaggio, e addirittura, posso usare, la mia creatività, per dare degli effetti, particolari, con quei 12 colori, comunque, ne parliamo, più avanti, e prendiamo due tesori, e ragazzi, io la faccio veloce, se no, non, le prendo due a caso, dai, si, do a caso, che voglio farvi vedere, la battaglia finale, finale, del primo livello, provate a fuggire, ma, non ci sono riuscito, che è, rimettiamo, questi in campo, non ho visto neanche, che carte ha, questo addirittura, ma io tengo tutti, dai, si gioca un po' così, si improvvisa, improvvisiamo, dai, questi chi sono, molti strike, possono fare più di un attacco, fanno due attacchi a turno, praticamente, e poi abbiamo qui, questo ratto, che, da tutti i minion, più uno, più uno, alla fine del turno, minion, nemici, veramente, avanziamo, e cerchiamo di farla, festa in fretta, perché lui c'ha, raggio 3, e fa due attacchi in un turno, quindi, bene, levarselo subito, subito, un giavellotto, giavellotto astrale, per chi se lo ricorda, io posso fare due attacchi, ma non ci arrivo, e, niente, con questo qui, che ha est, non ci arrivo, quindi, devo creare, qualcuno, prima, e un bel guardiano, ci sta sempre comodo, con est, lo metto qui, questo, lo voglio provare, quello che da, guadagna più uno, quando un minion, distrutto, ah, questo, quello che da fuoco, so che mi prendo, questo che da fuoco, est, attacco, e faccio, passo il turno, l'ho perso, ma questo, non immaginavo, ok, tocca a me, fiammata, subito, di questi, che mi li devo, in un bot solo, faccio un primo attacco, muovo, faccio il secondo attacco, è andata, lui, è, ma non ci pensa, tanto muovo questo qui, e non posso attaccare, pochi abbiamo, raggio 3, spingi dietro, si, e lui, la metta a protezione, lui, pigme, lasciamo qua, subisce due danni, perché mi è venuto in fronte, questo qua, è stato buono, lasciarlo lì, allora, ci abbiamo pugnali, che arrivano al prossimo giro, ricordiamocelo, pugnali in arrivo, ricordiamoci, di guardare, le animazioni, di cui parlavo, quando si fa le battaglie, guardate come, le carte, ruotano, zoomano, e fanno questi effetti, così, ok, abbiamo, 3 mana, 13 punti perità di lui, con questo, aumento di 1 la forza, in tutte le mie unità, e adesso mi serve, estremamente questa cosa, lo devo però, mettere in un punto, che sia tattico, tipo questo qua, perché, faccio vedere che si riesce, questa qua, tutte le mie amiche, hanno più 2, mentre sono adiacenti, ok, bisogna, qui bisogna ragionarci bene, faccio 3 attacco, con questi, 3 danni, con lui ne faccio 2, 1, 2, poi mi sposto, con lui faccio una freccia, 2, gli do fuoco, con questa vengo qua, con lui vengo qua, con questo, aumenta la forza, qui ha voglia, se ne faccio fuori, 3 di queste, sono 14 danni, ce ne ha 2, cioè, più poi prende fuoco, post, a posto, ho guadagnato 2 punti ferita, perché il mio talento, guadagna 2 punti ferita, quando vinco la battaglia, è andata molto bene, loot, ok, questo qui, riduce, 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 la forza dei nemici, nemici, minion, adiacenti, accanto al tuo eroe, di 3, questa magia, questa la sappiamo, però, ha il secondo livello, quindi ha, un po' di, punte ferita in più, mi pare, questo qui è sempre uguale, questo qui è sempre uguale, posso prendere solo 2, io prendo questi 2, che ne do prendere, posso anche non prendere niente, ma lì, ah, in teoria sì, se prendo troppe carte, il mazzo diventa, troppo grande, potrei non prendere niente, e lasciare, però per ora mi va bene, mi va bene, 25 carte, siamo, non so, forse 20, 30 carte, dipende dalla strategia che avete, dipende un po', non so quanto consigliare, sinceramente dipende, dalla vostra tattica, 25% di fuggire, vediamo le carte, 3, gli danno, 22 punti grita, e c'ha cleave, che non è tanto, una cosa granita, quindi il danno che, infligge, eh, hanno unità, lo infligge automaticamente, a tutti quelli adiacenti, quindi, se lui ha, eh, il nostro eroe, su un lato, e tre, qui, e uno, due, tre alleati qua, quando attacca l'eroe, gli fa tre danni, quando attacca noi, e più tre danni, a tutti quelli intorno, quindi, tutti le, eh, unità, amiche adiacenti, guadagnano, molti strike, uno, ovviamente fanno tutti, un attacco in più, quelli che sono attaccati a questo, totem, che, forza due, e sei punti ferita, e non può né attaccare, né muovere, tipo il nostro estendardo di battaglia, raggio tre, con due attacchi di questo qui, non è proprio ottimo, questo pure, se c'è cleave, due attacchi di questo, non è, questo va fatto fuori subito, questo este, attacca subito, appena messo in campo, e spinge indietro, niente, io, proverei a fuggire, no tanto qui, ah, invece ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, però la scelta è, di andare avanti qua, evento casuale, e poi, dopo l'evento casuale, quando ci si ripassa, ci tocca, vediamo, evento casuale, ok, e gris old soldiers sit again in a wall, rum around him, ms stay monster, want a wear a new weapon, they'll not be using, ok, sovrappamente questo eroe, ha ucciso un sacco di nemici, e ci offre di prendere una car, è un'arma, perché tanto è un'arma dei nemici, lascia, non succede niente, guadagna un'arma, guadagna un'arma upgraded, che fa sempre comodo, o training, gain a warrior spell, o si prende un'incantesimo di guerriero, prendiamo un'incantesimo di guerriero, potrebbe essere un qualsiasi cosa, però, ho l'arma, dura, dura, non è una live, quindi non posso prendere suggerimenti, magari un'altra volta facciamo le live, se vi interessa, fatemelo sapere, così magari se avete domande, ve le spiega al volo, da prendiamo l'arma, vediamo qui cos'è, ecco, un'arma che non ci interessa, è l'arco che fa, due danni, non lo possiamo usare adiacente, però, c'è il raggio 3, eh, sì e no, sì e no, sì e no, adesso abbiamo questa qua, che fa, due attacchi, proviamolo, giusto per farvelo vedere, dai, ok, proviamo, andiamo su questo, ah, sempre 25%, e niente, questo giro, ci tocca, speriamo di non morire, perché, a forza di scappare, evitare, incontri, i nemici diventano più difficili, ma noi non si passa di livello, abbiamo solo 3 mana, vedrei questo per il momento, questo me lo tengo, perché è bello tosto, questo lo tengo, perché, non so se l'ho spiegato, no, forse no, la sua forza, aumenta in base al numero di unità, che noi controlliamo in gioco, quindi questo è bene metterlo subito, subito, non levarlo, si, potrei fare questi 3, vedrai, la posso sacrificare, dopo che l'ho potenziato con lì accanto, la posso mandare lo sbaraglio in caso, ok, abbiamo anche il cane qua, che blocca il nemico, che non è male, sinceramente, allora, vediamo, non lo metto di qua, perché do avvicinarmi, più attacca a distanza con l'arco, però non devo fare venire il nemico troppo vicino, lui si muoverà qui o qua, quindi qualsiasi unità che io metto in uno di questi punti, può essere colpita, quindi stare attento, gli metto il cane qua, lui qua, e lui qua, per il momento, il paziente, il paziente, vedete, lui è la posta a base al numero di unità, un momento, andiamo avanti, non ha fatto nessun attacco, adesso mi prendo l'occasione, per muovere con il cane, fai un danno, e lui non si può muovere, mi potrà attaccare, mi potrà attaccare, però il cane sopravvive in teoria, o meno che chiaramente altre cose, quindi cosa faccio, con questo vado avanti, tanto lui lo può reggere il colpo, con lui vado dietro, perché faccio l'attacco a distanza, e mi serve di far fuori questo, mi serve di far fuori quello lì, lui lo manda avanti, che dopo ci deve arrivare, lui fa le attacche a distanza, allora lo possono evocare qua, lui distrugge un'unità, e evoca l'annesso le 1, se io faccio che, metto un guardiano qua, così se mi distrugge il cane, gli dà un colpo, chiunque evoca, quanto questo non attacca, allora vi ha un arciere, ha un arciere, e lo metto qua, no aspetta, 2, un guardiano lo voglio mettere qui, però per metterlo qui, mi serve una creatura qua, da sacrificare, questa penetrazione, ok, adesso attivico questo qua, metto il guardiano qua, questo non lo posso mettere in campo, faccio l'attacco con questo, mentre che ci sono, perché, va sempre comodo, quello non può attaccare, io posso attaccare, 13, l'abbiamo un po' rinchiuso, se io niente farà fuori uno di questi, per creare uno di loro, però, è già più contenuta la cosa, ok, ma fa cleave, me lo sono dimenticato, me lo sono dimenticato, e questo fa pure, a istemi, vedi come, come è interessante, questo gioco, si possono fare ottimi combo, però se ci si distrae, ci frega, ci frega, perché questo qui non ha attaccato, quando è entrato in campo, questo, strano, penso che lo faceva, cane, attacca, e adesso scappa, perché, a pochi punti di vita, lui fa, 5, e, metto pure indietro lui, lui fa 9, per ora, però faccio solo un, non ci arriva a dargli il colpo di grazia, ah, ma a me non mi serve, io faccio fare con questo, guarda, questo, me lo levo giusto perché, non ce li voglio intorno, fine, ma avanza anche un sacco di roba, a posto, è stato più facile del previsto, a 3, allora, standardo, questo non, spell behind, incantesimo, scarta la tua mano, e dai un minion più 1 più 1, per ogni carta scartata, molti strike, uno, può fare nudo attacchi, questa qua, e qui si, con sciama, questo qua è ottimo, quando muore, praticamente, mi da un javelino da utilizzare, vedendo questo, e questo, non mi piace scartare le carte, però poco mana, quindi potrebbe anche far, aumentiamo molti strike di questa qui, che in caso lo potenziamo, avanti, avanti, sono passati livello, più 3 punti ferita, più mana, si chi vuole, poi cos'è, negoziati, tutti gli negozi, blacksmith e tempi, ti danno un extra freebie, before charge per 6, oh my, questo è bellissimo, una carta, un potenziamento gratis, fa sempre comodo, questo, guadagna più 3 vita, più 1 di attacco, più 1 dash, che volete, ci si muove una casella in più, in questo è buonissimo, eh, tramite l'increase del drop rate, for 2, ok, quindi aumenta, il tesore che si possono prendere, non mi interessa qui tanto, molti strike p1, aggiunge un attacco addizionale, queste ragazzi sono, scelte i duri della vita, tutti insieme così, la mi ci vuole in mana in più, perché posso mettere più carte in campo, che due volte scarto, e avere una creatura specialmente a inizio in più, il boss questo, questi siamo al boss ragazzi, ridendo e scherzando, siamo arrivati al boss, allora, questo intanto è unità large hero, vuol dire che lui prende 4 caselle, quindi non gli si gira tanto attorno, quindi non si scappa ragazzi, rage 2, scusate, range 2, quindi fa praticamente, attacchi a distanza di 2 caselle, a forza 4, 29 punte ferita, un di altro, magia, guadagna 3 blocchi, anche lì, in questo turno, poi il turno dopo, saprà, stun, tutti i nemici, tutte le unità, in linea, dal tuo eroe, in this, start all the enemy, in line from your head, start in viva, nel decimino, ok, partendo da un'unità alleata, tutti quelli accanto, sono storditi, quindi praticamente, non si muovono, non si muovono, non si muovono, non si muovono, e questo, fa un danno, a tutte le unità, così, per piacere, danno del potenziato, prima era molto più potente, però è sempre bello tosto, ragazzi, battaglia finale, poi concludiamo, allora, qui abbiamo quattro punti di mana, quindi possiamo usare tutti e quattro questi, il giavelino lo conosciamo, questo lo conosciamo, questo penetra, non l'abbiamo utilizzato, questo è il, guarda, il primo per ogni minion distrutto, che avete visto, lui non ha minion, ha solo magie, e quindi non so se funziona solo, non abbiamo provato, se funziona sul nostro o no, quindi lasciamo per ora lo scarterei, non lo scopriamo in questo momento, e quello, da tutte le unità adiacenti, cleave, questo sì, questo ci vuole, non so quanto durerà, perché con un punto ferita, anzi, non è meglio che lo scarto, sinceramente perché, non ho molte unità al momento, non so se poi mi capta, questo fa un danno a penetrazione, cioè non attacco più, alla fine, lasciamolo per dopo, vediamo cosa si peglia, ripeschiamo queste tre, ok, ottimo, guardiano, qui lo mettiamo, così se si muove, lo facciamo, un attacco automaticamente, subito gli do, una freccia, gli do il giavellotto, qui va fatto il più possibile, vi fa quattro di runni, quindi ci vuole uno, da sacrificare, per bloccarlo, e questo lo mettiamo qui, potenziarsi, questo lo mettiamo qui, per fare attacchi a distanza, andiamo, fa tre blocchi, è guadagnato, ah, ho dimenticato che c'è, l'attacco a distanza, range 2, ma è meglio che me lo spatte su di me, così ho più persone per attaccare, lui ha levato uno scudo, quando si è mosso, quindi adesso faccio, devo fare tre, lo attacchi a vuoto, per levare gli scudi, prima di potergli fare danni, e dopo lui fa un danno a tutte le unità, quindi lui muore, automatico, chiunque metto in campo che costa uno, muore, lui mi dà il giavellotto, quindi si lo voglio mettere in campo, anche se non fa niente, che muore mi dà un giavellotto, lui, allora vediamo, mi serve questa ragazza per potenziare danni, allora lo metto qua, la metto qua, potenzio il più che posso, tanto potenzio, non è che io ci rimango fino alla fine, faccio niente di danno, però, con lui lo metto qui, non è nessuno che attacca subito, quindi sono sprecati, allora dove ho metto, ah mi sono casinato, questo non lo posso spostare, vabbè, è andata così, facile sbagliarsi, facile sbagliarsi, arciere, che ha finito il male, questo non lo posso usare, attacchiamo qua, vediamo questo, non ci si può spostare, lui non può attaccare, lui non può attaccare, finisce un po' così, e non abbiamo fatto granché, lui farà tanto, un, ha fatto tanto, e si fa danni, quando si sposta avanti e indietro, con il pikman, allora, tanto mettiamo di, allora, giavellotto guadagnato, perché ha distrutto, la carta, questa qua, che quando muore, si guadagna il giavellotto, quindi, c'è stato utile, per giavellotto, poi il cane, lo mettiamo, perché il cane, lo tiene fermo, se riesce a sopravvivere, lei la mandiamo via, noi lo mettiamo in campo, e diamo al, questa da, più due forze all'unità adiacenti, così, ci sta, con questo, lo mettiamo qui, si potenzia un po' tutti, e niente, attacchiamo, così si fa 6, con lei non si fa niente, con lui si fa 14, e siamo già a festa, e ci si è fatta ragazzi, si è fatta una buona combo, non si è passati di livello, però si è fatto un lot, guardate quante carte si è fatto, tre, sono le, vedete le carte che si possono prendere, più eventualmente una quarta, l'arco quello lì, che non abbiamo mai voluto prendere, lasciamolo qui, continuiamo a lasciarlo, lui lo conosciamo, questo lo conosciamo, è una carta doppia, però, se le mettiamo in campo 2, chiaramente fanno il doppio effetto, questo cane è un altro mastino, che ha haste, e dash 1, quindi è ottimo, perché lui fa, quando viene messo in campo, può attaccare subito, e si muove una casella ampia, si muove una casella ampia, si muove una casella ampia, e si muove una casella ampia, questa è una delle mie armi preferite, a distanza, fa raggio 2, penetrazione, quindi se colpiscono, non quella adiacente, ma quello di dietro, anche quella adiacente, che c'è nel mezzo, viene colpito, e fa 3 di danno, non è male, il corno l'abbiamo visto prima, questo pietre volanti, l'unità bersaglio, cioè, sceglie un'unità come bersaglio, con l'unità, e tutte le unità adiacenti, aumentano di 1 la potenza, e il raggio, di 3, poi stato pietra, finisce, si usa solo una volta, è un tesoro che 30, costa 30, e se fosse una cosa, che non si eserisce, sarebbe buona, però usando solo una volta, non so, non so, io andrei di questo, di sicuro, di questo di sicuro, e questo di sicuro, sono i 3 di base, la pietra vi permette, di prendere un tesoro, la devo spreccare un tesoro, sì o no, lo prendo giusto per, e niente, andiamo avanti, vediamo, healer, e made chest, è cambiato un po', perché prima c'era fine di livello, vediamo, guaritore, radice, vabbè, lascia, vai via senza niente, non ci interessa, a gratis, se si vuol dire, a gratis, prendi 4 punti ferita, non paghi, oppure, una cura maggiore, dai un tesoro, e torni pieno, a noi ci basta, un sorzino, della pozione, perché se si va a fare una battaglia, comunque si ricopera 2, made chest, you discover magical chest of lots, open chest, se sarà calcio to your deck, ma sì, perché no, artefatti, ah, questa è una cosa nuova, che non si avrà visto, che se ne, c'erano due slot, e quindi se ne può, eh, portare due, un tesoro, che costa 0, vabbè, vale 0, quindi, di più 2 alla potenza, per questo turno, col down 2, col down numero di turni, rimasto vedete, ok, quindi quando si usa quest'artefatto, per due turni, non si può utilizzare, quindi per un turno, e da più 2 alla potenza, che non è male, costa un punto di mana, questo spike, questo costa 30, guadagna 2 blocchi, ok, quando hai due blocchi, you have rate elite, che non so cosa fa, anche questa cooldown 2, rate elite, dice, when attacked by a target, in range, automatically attack back, if possible, ok, quando sei attaccato, da un bersaglio, in attiro, attaccato in rate, e colpisci, in risposta, ma, mi sembra, quando hai blocchi, quindi, mi sembra ottimo, molto meglio di questo, anche se costa di più, metterlo un campo, niente ragazzi, qui fa, si potrebbe, andare indietro, e far fuori questi, qui adesso, velocemente, altifatto, automaticamente lo prende, oppure, posso andare avanti, livello, e finire la live, finiamola, comunque così, non, la tentazione di continuare, giocare, cioè, perché il gioco, come avete visto, è interessante, bello, c'è delle, belle meccaniche, e c'è sempre, questo, ha fatto di scoprire, carte nuove, potenziarsi, e così via, è un gioco, facilmente, replicabile, con construct, questo, molto, molto facile, da replicare, chiaramente, dovete sapere, dove mettere mano, però, tecnicamente, è fattibilissimo, con construct, sia che lo volete fare, per, per computer, o per cellulare, vedremo, nei prossimi giorni, quindi, come poter fare, meccaniche simili, che non vogliamo, copiare il gioco, chiaramente, lo stesso modo, però, vediamo le meccaniche, nel prossimo video, faccio vedere, le funzioni, che mi sembrano, di non averle parlato, nei primi video, quindi, faccio un minima, introduzione, sulle funzioni, perché, le funzioni, sono una cosa, che basilar, che bisogna imparare, il primo possibile, e adesso, siamo a un punto, che, dovete impararle, perché, se no, non riuscite a fare cose, un po' più complesse, e guardiamo poi, gli array, come fare, come utilizzare, le array, di dimensionale, a una dimensione, bidimensionali, e tridimensionali, in questo caso, una dimensione, prende una lista, come per esempio, una lista, delle carte, che abbiamo, il mazzo, un array bidimensionale, potrebbe essere, la mappa, dove ci muoviamo, durante la battaglia, perché, sia, le caselle, in orizzontale, che verticale, mentre, un array, tridimensionale, lo accenniamo, ma, non se ne parla, perché, non andiamo a fare, un gioco, troppo complesso, però, se avessimo, per esempio, nel, in questa ipotetica mappa, dove abbiamo, fatto le battaglie, finora, dei livelli di altezza, dove ci sono, che ne so, unità volanti, quindi ci sono unità, a livello terra, e poi, unità volanti, primo livello, secondo, terzo, e così via, oppure, tipo, immaginate, piani dei palazzi, allora, in quel caso, avremo bisogno, di considerare, anche il valore, della z, dell'altezza, niente, comunque, vi faccio vedere, un po', come si fanno, tutte queste cose, nei prossimi video, e se avete domande, su qualche meccanica, fatemela, nel frattempo, che prego così, mentre preparo video, cerco di, di andare a coprirle, più possibile, su quello che mi interessa, ok? Ci vediamo, nei prossimi video, statemi bene per ora, ciao a presto! Ah, ultima cosa, me la sono dimenticata, se non l'avete fatto, e se siete nuovi, su questo canale, iscrivetevi, premete like, se vi è piaciuto il like, tutte le cose che vi dicono, chi vi dice, qualunque youtuber, o così, tanto lo sapete, il perché, questo mi aiuta a me, avere più popolarità, e anche, scusate per l'inglese, mi aiuta a vedere, un po' dei feedback, perché, perché se, se vedo che le cose, vi interessano, io, faccio più volentieri, altri video, e, cerco di capire un po', che direzione, dare ai miei video, anche perché questa, come detto prima, all'inizio, è una serie nuova, quindi, dove andiamo a esaminare, altri giochi, per poi ricreare le meccaniche, se vi piace la cosa, fatemelo sapere, ok, adesso basta, ciao, alla prossima!